E in colpio mi sta cercando, vuole vendicarsi. Io ho portato via il fratellino con un inganno ben macchinato. Se l'è meritato lo scherzo, lui che è un assassino notturno, un ladro pronto a peccare tutto ciò che luccica come un uccello da preda. Mentre dormiva strondito dal vino, gli ho tolto di sotto Citone e ho passato con lui la più dolce delle notti. L'amicizia può durare solo finché fa comodo. Io la penso così. Sulle prime il fanciullo tentava di negarmelo il fiore, forse perché voleva dormire. Ma io ho tirato fuori la mia spada e gli ho detto se tu sei Lucrezia hai trovato il tuo tarquinio. Oggi un famoso attore e chi non conosce la sua fama mi ha offerto di comprarlo. Alla vista del denaro ho ceduto il mio schiavetto. Poi mentre giravo per la città un buon padre di famiglia mi ha avvicinato e mi ha condotto qui alle terme. Dentro una di quelle nicchie mi ha messo le mani addosso. E come insistente!